Ultima spiaggia, o quasi ultimo treno, anche se in realtà successivamente restano ancora quattro partite da disputare. Una cosa è certa, il Bitonto domani pomeriggio si gioca a tantissime delle residue e possibilità di centrare un piazzamento tra le prime cinque della classifica. Deve, batte il Real Aversa al Città degli Ulivi per alimentare la fiammella della speranza in chiave playoff. Partita fondamentale per le ambizioni dei neroverdi, che ritrovano di fronte una compagine campana e sono nella condizione di dover riscattare necessariamente l'inopinata battuta d'arresto di domenica scorsa a Pozzuoli contro la Cenerentola Putiolana. La lotta per la promozione nella trentesima giornata del Girone H si svilupperà invece su due campi, il Paolo Poli e il Donato Curcio. A Molfetta contro una squadra che non ha particolari ambizioni di classifica, arriva la capolista Taranto, Ionici a caccia di un successo che manca ormai da tre turni, il Picerno, vice capolista del raggruppamento. Ospita invece un Casarano che non ha ottenuto punti nelle ultime tre esibizioni in questo campionato, i Lucani di Antonio Palo nei prossimi giorni possono accorciare il margine dalla vetta attualmente di quattro lunghezze, in quanto mercoledì prossimo recupereranno la sfida interna contro la Putiolana. Deve vincere a Francavilla in signa, al cospetto di una realtà che ha bisogno di punti in chiave salvezza, il Nardò. Serve il bottino pieno per restare in corsa per i playoff ai Neretini. A Venosa invece va in scena la sfida tra Lavello e Fasano. Lucani, terzi in graduatoria in serie positiva da cinque turni. Pugliesi a caccia del terzo successo di fila il programma della trentesima giornata. Si completa poi con il derby salvezza tutto campano tra Portice e Putiolana. Fischio d'inizio su tutti i campi, previsto domani alle ore 16.